Ciao a tutti, siete sopravvissuti al 19.2? Noi abbastanza. Comunque oggi è il 4 marzo e lunedì ed inizia una nuova settimana su Ciper TV. Inizia con un unwrap di 15 minuti dove ci saranno 15 oppure 12 calories sulla Assault Bike, poi 30 air squat, 15 o 12 calories bike, 15 dumbbell push press, 15 oppure 12 calories bike e 15 dumbbell hang clean. Pesi e scalature come al solito sulla grafica qui di fianco. Per oggi è tutto, a domani per un altro WOD insieme su Ciper TV.